A proposito di distanza di sicurezza, quella tra Foggia e Bitonto nell'ultimo periodo si è ridotta notevolmente, sorridono i rossoneri un po' meno i neroverdi nelle ultime tre giornate. Infatti il Bitonto, che era reduce da 19 risultati utili consecutivi, di cui 14 vittorie e 5 pareggi, ha racimolato appena due punti, pareggiando contro Taranto e Brindisi. Il Foggia, con le sue quattro vittorie e una sconfitta, è riuscito a rosicchiare punti importanti in chiave sorpasso. Effettivamente, nelle ultime giornate i downi non erano mai stati così vicini al primato in classifica. Un primo passo importante è arrivato nel corso della ventiquattresima giornata, quando il Bitonto perse per 1-0 in casa contro l'Ovdace Cerignola e il Foggia vinse allo Zaccheria contro il Brindisi. In quel caso la distanza tra le due si accorciò da 5 a 2 punti, così come di 2 punti era il 19 gennaio, quando i rossoneri superarono per 2-0 la Nocerina in casa, prima di perdere la giornata successiva a Gravina, permettendo al Bitonto di scappare nuovamente. Mentre appare lontana ormai la sesta giornata, unica volta in cui i satanelli furono soli in vetta. Nella sedicesima, invece, Bitonto e Foggia furono primi, ma in coabitazione.